Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Dopo la pausa delle festività dell'ultimo dell'anno, la mattina del 2 gennaio, mi sono recato su invito dei cittadini preoccupati e anche, vogliamo dire, arrabbiati, Assessore, per una situazione che non è nuova nel CUP di Città di Castello all'interno del Presidio ospedaliero, tant'è che queste situazioni sono state ampiamente rappresentate in passato nei quotidiani con titoloni di servizi al CUP. Liste d'attesa per avere la prenotazione e il pagamento di un servizio, nella fattispecie il 2 gennaio si è aggiunto il disservizio per quanto riguardava la possibilità di utenti di cambiare il medico di famiglia. E alle 8.30 c'era un solo operatore, così mi è stato rappresentato da testimoni. Io sono arrivato verso le 11 e i tempi di attesa erano di oltre due ore, tant'è che ho anche i ticket che avvalorano questa situazione. Penso che sia quantomeno sconveniente e frutto di una cattiva programmazione del servizio, perché in questi anni Assessore, ripeto, è stata ampiamente resa nota questa situazione, ma è evidente che a qualcuno questo tipo di problemi non ha appassionato e non ha interessato. Tra l'altro, voglio anche fare una puntualizzazione, il servizio del medico di famiglia è disponibile ora online, ma in quei giorni mi risulta che le procedure non erano facilmente eseguibili. Ma soprattutto la cosa che mi ha in quanto meno indispettito è il fatto che nel distretto adiacente presso il centro commerciale Famila, io la foto, il giorno 2, il servizio di cambio medico era ovviamente sospeso. Questi sono i due ticket che dimostrano Assessore i tempi di attesa che poc'anzi gli ho detto. Quindi in pratica chiedo di comprendere i motivi e le eventuali azioni che questa giunta voglia intraprendere. Grazie, Consigliere Mancini. Do la parola all'Assessore Colletto per la risposta. Grazie, Presidente. Con riferimento alla situazione verificatasi presso il CUP, sito all'interno dell'ospedale di Città di Castello, il Direttore del Distretto Alto Tevere riferisce A seguito del pensionamento di ben quattro medici di medicina generale, l'Urs Umbria 1 ha potenziato l'apertura degli sportelli dell'anagrafe sanitaria per facilitare gli utenti nella scelta del nuovo medico. In riferimento alla situazione riferita dell'interrogante, il giorno 2 gennaio 2020, all'ora 10.45 circa, successivamente alla segnalazione della Direzione Generale, il Direttore del Distretto ha fatto rilevare dalla referente Back Office Cup di Umbria Salute la situazione presso gli sportelli. Tra le 10.45 e le 11.30, periodo di rilevazione, erano presenti i quattro operatori di sportello. Gli utenti in attesa erano 60, di cui 33 per le presentazioni varie, prenotazioni, visite, pagamento, ticket, eccetera, e 27 per il cambio medico, tutto verificabile tramite display che registra il numero delle persone in fila, dividendole anche per tipo di flusso, con tempi di attesa massimi e fisiologici di 30 minuti circa. Si fa presente che essendo possibile fare il cambio medico anche da parte di un singolo componente per tutti gli appartenenti dello stesso nucleo familiare, può capitare che un numero di prenotazioni si riferisca a più persone. È chiaro che la situazione, sia pure gestita attraverso vari canali di comunicazione, ha comportato un aggravio di lavoro degli sportelli ed un allungamento dei tempi di attesa per l'utenza. Detto ciò, verificheremo in maniera ancora più puntuale quanto è successo. Cercheremo di potenziare nel limite del possibile quella che è la gestione di situazioni del genere. va sottolineato che quattro medici di medicina generale che vanno in pensione contemporaneamente non sono un problema da poco. Se poi questi medici sono massimalisti, quindi che hanno 1.500 pazienti cada uno, il problema diventa ancora più importante. Si parla di 6.000 persone che devono cambiare medico o riposizionarsi diversamente. Questo è dovuto anche a una cattiva abitudine dei medici di medicina generale di denunciare all'ultimo il pensionamento, proprio per evitare di perdere pazienti verso la fine del loro mandato. Grazie. Assessore, io chiaramente dal punto di vista confido nella sua intervento e chiaramente non lo faremo solo in aula, penso di farlo anche in commissione. Appunto, proprio perché a questi signori rivolgo più che a lei, Assessore, le mie parole. Appunto, sapendo che quattro medici vanno in pensione con 1.500 pazienti l'uno, non è che il 2 di gennaio, dopo aver fatto le ferie natalizie, il principale sportello nel distretto lo chiudi. Evidentemente la direttrice non aveva ben chiaro quello che gli aspettava davanti, tant'è, la metto al corrente adesso, che il distretto di Città di Castello metà è reso inagibile. Quindi ancora una volta qualcuno da quelle parti in Alta Valle del Tevere, Assessore, programma poco e fa peggio. Quindi questo vuol dire che c'è bisogno, quindi ben utile il suo arrivo, c'è bisogno per quanto riguarda la gestione sia degli affitti che dei locali e personale, di un'approfondita analisi e fin anche, come ho detto anche in un'intervista televisiva, a cambio della direzione o dei compiti che gestiscono questo servizio. Grazie. Grazie consigliere Mancini. Ora oggetto numero 6, ritardi erogazione fondo gravissime disabilità 2019. Do la parola al consigliere Bori. Grazie Presidente. Devo dire che dal lavoro che stiamo svolgendo in Commissione Sanità stanno emergendo molte questioni su cui si può lavorare insieme e su cui non è nostro interesse fare polemica o strumentalità, ma risolvere i problemi. In questo io chiedo la stessa attenzione da parte della Giunta. La questione non è come sono andate le cose in passato, ma è come noi le vogliamo affrontare per il futuro. Per quello che riguarda il fondo gravissime disabilità, per il 2019, e si spera di risolverlo per il 2020, ci sono state per questo fondo, che è un fondo per la non autosufficienza che è al riparto anche del Ministero delle Politiche Sociali e che ha come obiettivo gli assegni di cura per l'assistenza domiciliare per 1.200 euro per persone affette da patologie rare e 600 per patologie non associate a malattie rare. che servono a coprire i costi di spese di servizi che il sistema regionale pubblico e i servizi sociali non riescono a coprire, quindi non è sostitutivo della sanità pubblica e dei servizi sociali, ma è integrativo. Questi fondi hanno avuto gravi ritardi nella loro erogazione e capiamo la difficoltà delle famiglie di fronte a questa situazione. Questi fondi hanno avuto dei gravi ritardi e hanno avuto anche un'applicazione disomogenea, ovvero a seconda della ASL in cui risiedeva il paziente e la famiglia e a seconda del distretto in cui era collocato il paziente e la famiglia, c'erano applicazioni differenti. Quindi alcuni li hanno erogati in ritardo, altri non li hanno erogati e così via. Ora, il fondo in sé è una scelta del 2017 ed è una scelta positiva, quindi va riconosciuto quello che di buono è stato fatto. Le difficoltà nell'erogazione e ritardi non vanno bene insieme a una differenza di applicazione a seconda della zona in cui si risiede. Per questo noi interroghiamo la Giunta per conoscere quali azioni intende mettere in campo al fine di riprendere l'erogazione degli assegni mensili di sollievo, concludendo il 2019 ma soprattutto affrontando il 2020, e come intende adeguare e rendere uniforme i criteri di applicazione tra i diversi distretti sanitari della Regione. Grazie. Grazie, do la parola al Sessore Coletto. Il Fondo per un'autosufficienza è alimentato da risorse di bilancio regionale e da risorse del Ministero delle Politiche Sociali. Allegata c'è una tabella che poi lascerò agli atti naturalmente. La parte di finanziamento regionale negli anni che si nota dalla tabella è diminuita da 4,4 milioni di euro nel 2016 a 3 e poi successivamente a tre quarti di milioni di euro nel 2018. La quota del Fondo Nazionale copre quindi metà degli interventi per la disabilità. È utile comunque sottolineare che le aziende sanitarie durante il 2019 hanno continuato senza interruzione ad erogare i servizi essenziali alle persone che rientrano nei livelli essenziali di assistenza, anticipando risorse del bilancio proprio e ciò ha portato ad una momentanea interruzione degli altri setting assistenziali come l'assistenza indiretta che non rientra nei livelli essenziali di assistenza. Infine, l'erogazione dell'assistenza indiretta come le disposizioni regionali prevede l'erogazione della stessa compatibilmente con le disponibilità di risorse assegnate dal Fondo. Il 4 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Fondo non autosufficienza che assegna le risorse del 2019, del 2020 e del 2021 a tutte le regioni. Gli uffici regionali stanno predisponendo gli atti per l'assegnazione delle aziende regionali delle risorse del 2019 e del 2020. L'assegnazione trienale delle risorse eviterà quindi la discontinuità tra l'assegnazione di risorse ed erogazione di interventi. Sono stati erogati interventi per un'autosufficienza rendi contati e valutati nel 2018 pari a euro 11.877.970, di cui 4 milioni e mezzo circa di assistenza indiretta erogata. Si precisa infine che tutte le risorse afferenti al bilancio regionale di competenza del 2019 sono state assegnate alle aziende da tempo. Detto ciò integrerei dicendo che quanto rilevato è consigliere Bori è vero, esiste questa anomalia, questa differenziazione fra US1 piuttosto che US2. Questa la risolveremo accentrando la gestione di queste risorse a parte regionale in maniera tale che ci sia una erogazione continua indipendentemente da quello che è il bilancio delle varie aziende territoriali. Solo così riusciremo a rendere omogeneo quella che è l'erogazione in un servizio così importante. Grazie. Grazie Assessore. Ora la replica al Consigliere Bori. Sì, io ringrazio per la risposta. Il tema va affrontato, noi l'abbiamo sollevato per poterlo risolvere. La regione Umbria, per quello che riguarda ILEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, è tra le regioni più virtuose d'Italia. E i servizi che offre il sistema sanitario regionale e l'assistenza sul sociale che viene offerta dalle strutture comunali o da sovracomunali è di altissimo livello. Oltre questo c'è un altro tema di cui ci dobbiamo fare carico, è che spesso, sempre più spesso, ci sono una serie di attività che, connesse alla patologia, devono essere svolte a carico delle famiglie. Per questo nasce questo fondo per le gravissime disabilità e noi ci auguriamo che si vadane a direzione di integrare, non sostituire, integrare tutto quello che viene fatto dal sistema sanitario e dal sistema sociale a sostegno delle famiglie e dei pazienti. In questo una uniformità e una continuità dell'erogazione è più che aspicabile. Grazie. Oggetto numero 7, estensione dello screening gratuito al seno per le donne ad iniziare dai 45 anni di età. Do la parola al Consigliere Fora. Sì, buongiorno, buongiorno Assessore Coletto. Ma il tema del rafforzamento della rete oncologica regionale, lo dico in premessa, credo che dovremo lavorarci con molta intensità. È emerso anche in terza commissione nelle aduizioni di questi giorni, sui quali peraltro, sulle quali ci siamo assunti anche l'impegno complessivo come commissione di lavorarci per presentare successivamente al termine di questo percorso anche con degli strumenti che verificheremo, un'attenzione particolare al tema se il coordinatore della rete oncologica regionale, Roila, l'abbiamo ascoltato la settimana scorsa in commissione, ha definito il sistema oncologico regionale un vero disastro. Ha detto siamo al collasso con il sistema regionale della rete oncologica. Fatta questa premessa, la mozione propone di attivarci, come altre regioni in Italia già stanno facendo da alcuni anni, per estendere l'età del programma dello screening gratuito al seno per le donne a iniziare dai 45 anni di età. Sempre in audizione la settimana scorsa abbiamo ascoltato che l'80% delle donne che ha partecipato al percorso di prevenzione della mammella e del tumore della cervice in questi anni ha avuto risultati positivi. E' emerso anche che la prevenzione agisce maggiormente sulla fase d'età più giovane. Questa partecipazione così alta ai programmi di prevenzione, l'80% è uno dei dati più alti di tutta Italia alla partecipazione ai programmi di prevenzione tumore della mammella, fa beh sperare che l'estensione ai 45 anni possa, grazie a una diagnosi più precoce che per molte donne su questa fasce di età è cruciale, può affrontare più precocemente il rischio di tumore al seno con una maggior probabilità di sopravvivenza. Non a caso infatti già nel 2014 il Ministero della Salute approvò alla conferenza Stato-Regioni un documento in cui proponeva nelle linee guida le Regioni di poter attivare sperimentazioni o estendere i programmi di screening con un controllo annuale già dai 45 anni rispetto agli attuali 50. Alcune Regioni si sono già attivate e la Regione Umbria evidentemente non è fra queste. Sappiamo che questo aumento, questo ampliamento della fascia d'età costituisce un costo in più per il servizio sanitario, sappiamo anche della carenza oggettiva dei professionisti di medicina diagnostica presso le nostre strutture, ma si potrebbe lavorare anche con i medici di medicina generale, tra le altre cose, per evidentemente bloccare l'assegnazione, la prescrizione e invece lavorare in fase di prevenzione con un programma regionale. È evidente che su un tema come questo e come quello della salute è fondamentale, io credo, al di là dei problemi delle risorse economiche, poter operare, per cui la mozione chiede se la Giunta intende poter, come hanno fatto già altre Regioni, lavorare sull'ampliamento, l'estensione dello screening gratuito a partire dai 45 anni e evidentemente a questo affiancare un programma di comunicazione istituzionale pubblica di sensibilizzazione alla popolazione femminile, campagne informative ed educative anche partendo dalle scuole, per poter, coinvolgendo anche le associazioni di volontariato, lavorare a sensibilizzare il territorio su questo tema. Grazie. Grazie consigliere Fora, do la parola all'assessore Coletto. Grazie Presidente. In Umbria, con DGR 366 del 2013, l'indirizzo per un nuovo modello organizzativo per gli screening oncologici, si è esteso a partire dal 2016 lo screening mammografico con invito biennale alle donne del 70 e 74, quindi abbiamo innalzato quello che è il limite nazionale che fa riferimento ai 70 anni, che partecipano regolarmente allo screening fino a 69 anni. La suddetta DGR prevedeva che la regolamentazione sulla prescrivibilità della mammografia da parte di MMG per le donne in età di screening, al fine di assicurare una maggiore proprietà delle prestazioni. L'estensione dello screening alla fascia 45 e 49, con invito biennale, comporterebbe in linea teorica che le donne da chiamare ogni anno passino a 67.500, tra i 50 e i 74, a circa 85.100. Dal momento che, secondo i dati ISTAT, nel 2019 sono circa 35.000 le donne fra i 45 e i 49 anni, residenti in Umbria, da chiamare in due anni, 17.500 ogni anno. In tabella 2 viene riportata la stima del carico di lavoro utilizzando la fascia 50 e 74, dati di adesione riferiti al 2018, ipotizzando per la fascia 45 e 49 un'adesione del 68%, come riportato nell'ultimo rapporto annuale dell'Osservatorio Nazionale Screening. Le mammografie di screening passerebbero pertanto da 46.200 a 57.000. I radiologi e senologi di screening sono attualmente 8, più 1 in formazione, nella ULS Umbria 1 e 5 nella ULS Umbria 2. I requisiti previsti per i radiologi che operano nel programma di screening sono essenzialmente essere dedicati all'attività senologica per almeno il 50% del loro tempo e leggere almeno 5.000 esami di screening ogni anno. Tuttavia, i radiologi e i senologi che lavorano nello screening svolgono sia attività di screening, sia attività senologica clinica. I radiologi che effettuano lo screening devono essere in grado di effettuare anche l'approfondimento diagnostico di secondo livello, invasivo e non invasivo. In altre parole, il radiologo o senologo di screening non solo deve possedere specifici requisiti per garantire il livello di qualità nella lettura della mammografia di screening, ma deve poter garantire, secondo i requisiti di qualità, anche la lettura delle proiezioni mammografiche supplementali. L'esame clinico, l'effettuazione dell'ecografia e dell'esame citologico, agospirato e o microistologico, biopsia. Poiché sia le strumentazioni, sia le competenze non sono distribuite sul territorio regionale in maniera omogenea, divene fondamentale in questa logica definire percorsi che la donna deve compiere nel caso di passaggio dal primo al secondo livello a stabilire una costante attività di formazione sul campo. D'altra parte, i dati presentati nel RIS, Sistema Informativo Radiologie, relativa alle mammografie non di screening effettuato nel 2019, risulta che le mammografie eseguite dalle donne tra i 45 e i 49 anni sono circa 7.500. Si può affermare che circa il 43% delle donne per le quali si prevede di estendere lo screening già si sottopone spontaneamente alle mammografie nelle strutture del servizio sanitario regionale. Tutto ciò premesso, rispetto ai quesiti sui esposti e degli interroganti, si può affermare che per l'anno 2020 si ritiene che l'estensione dello screening gratuito della mammografia, a partire dai 45 anni con cadenza biennale, stante le condizioni economiche e organizzative attuali, in parte, non possa prevedersi, ma che è invece intenzione dell'amministrazione regionale provvedere al rafforzamento della comunicazione istituzionale a fine di sensibilizzare ulteriormente le donne sull'importanza della prevenzione attraverso i vari canali contemplati nel piano regionale della prevenzione, in modo da incrementare l'adesione spontanea, peraltro già consistente alla mammografia nelle donne ricomprese nel relativo target. Va sottolineata un'altra questione, in itinere nel patto della salute appena approvato, proprio l'estensione nei livelli essenziali di assistenza delle mammografie delle donne dei 45 ai 49 anni. Il problema è che il patto della salute è stato approvato con un'intesa Stato-Regioni, ma non è legge. Da noi è stato fortemente voluto questo inserimento, cioè l'ampliamento delle mammografie. In attesa sarà nostra cura, sarà cura della Giunta regionale, andare ad ampliare parzialmente, prendendo due parametri sostanzialmente, quello della familiarità e quello della sintomatologia. Quindi andremo a verificare in maniera puntuale queste situazioni e ad ampliare nell'ambito dei 45 ai 49 anni con questi parametri, nell'attesa che il Governo prenda atto, che questa è una necessità importante, e che quindi allarghi quello che è l'intervallo delle mammografie partendo dai 45 e non più dai 50 anni. Grazie. Grazie, Assessore. Do la parola al Consigliere Fora per la LEP. Ringrazio l'Assessore Coletto per la risposta, esauriente sul piano informativo, parzialmente esauriente, la definirei sul piano delle soluzioni. Siamo perfettamente consapevoli che la situazione economica del bilancio sanitario regionale è critica, così come quella organizzativa. Mi pare di cogliere nella risposta dell'Assessore la volontà, e di questo sono ben felice, anzi lo incoraggiamo, affinché si possano porre in essere azioni verso il Governo che alla luce del patto per la salute possa a questo anche far seguire risorse e trasferimenti tali per poter garantire quello che è stato stipulato. Dopodiché è ovvio, ma mi limito a dire una cosa abbastanza banale, che sulla salute e in questo caso sui rischi che sono legati alla vita delle persone, e in questo caso delle donne, non possiamo rispondere solo con motivazioni che hanno a che fare con problemi economici ed organizzativi. Quindi questo, come dire, credo che sia abbastanza banale, anche molto condivisibile, per cui, come dire, assumiamoci insieme questo impegno affinché il 2020 possa servire per revisionare complessivamente anche la struttura organizzativa legata alla diagnostica pubblica con soluzioni che, avevo letto anche nel programma elettorale, possano prevedere integrazioni anche con servizi di altro tipo e che aumentino oggettivamente il fabbisogno di professionisti della diagnostica pubblica che oggi, al di là dell'estensione a 45 anni, è oggettivamente in crisi come sistema. Grazie. Grazie.